Toddley? Guida forte? No, direi... Ma lei una sua ferrarina privata ce l'ha, sì? Eh sì, ma non ho il tempo di utilizzarla, dunque la lascio a Parigi quando faccio il weekend. No, lei la porti perché qualcuno qui, insomma, devo dire anche lo stesso Pantani, ma anche qualcuno di noi... Sì, devo dire che Pantani dovrebbe fare la scelta giusta, ma li parliamo dopo. Poi vicino al mio presidente sono convinto che è arrivato con una Porsche e uscirà con una Ferrari. Sì, beh, questa è un'idea, ho visto in pallidiere Montezemolo perché non... Vabbè, allora invece lei? Io in strada cerco di andare piano, sfrutto la mia esperienza magari quando ho fretta, però di base cerco di stare nei limiti. No, lui ha un problema, che quando è sulla strada cerca la figa, perché questo è il problema, perché va molto piano, perché si dice c'è una qui, c'è una... Ho capito, c'è una forma di messo in piano, adesso ormai la parta, insomma.